Gianni Giuliano, da Presidente di Autostrada dei Fiori, adesso nel CDA della Fondazione Carige. Questo vuol dire dare la D all'autostrada? Beh, ovviamente ci sarà un Consiglio di Amministrazione dell'Autostrada venerdì 13, al termine del quale io rassegnerò le mie dimissioni. Devo dire che alla fine del mandato mancava pochissimo, perché il nuovo Presidente sarebbe stato eletto fra fine febbraio e primi di marzo. In base al codice civile mi subentrerà per questo breve periodo il Vice Presidente più anziano, che è il Dottor D'Alessandro, che è stato per tanti anni Amministratore Delegato di Autofiori. Direi che quindi tutto avviene in maniera abbastanza indolore. Ecco, poi ci sarà un problema per la successione, perché non è ancora chiaro, poi alla fine con questo passaggio di quote dalla provincia, chi avrà le quote per fare il nome del Presidente, giusto? Beh, indubbiamente ci sono gli enti locali, la provincia e il comune di Sanremo principalmente, che stanno alienando le quote azionari. Le Camere di Commercio si sono fatte avanti per acquisirle, dipenderà dai tempi che questa acquisizione porta con sé. Se saranno tempi molto rapidi, allora le Camere di Commercio avranno una partecipazione nazionaria che consentirà loro di esprimere i vertici di Autofiori. Diversamente continueranno a destra gli enti locali a esprimere il Presidente e gli altri amministratori. Ma parliamo del CDA di Fondazione Carige, di questo nuovo impegno, in un momento anche difficile, un po' travagliato, tra l'altro lei è stato espresso da quella che è stata definita la minoranza, quindi insomma un po' in questo momento così di rivoluzione, lei come si pone di fronte a questo CDA? Io credo che i problemi della Banca Carige e di Fondazione siano tali che parlare di minoranza e di maggioranza sia piuttosto complicato. Bisogna cercare di remare insieme per risolvere i grandi problemi. Diciamo che porto sicuramente in quella sede l'esperienza fatta prevalentemente nell'amministrazione provinciale, dove per dieci anni quasi ho ricoperto il ruolo di Presidente e dove indubbiamente potrò rappresentare gli interessi del ponente.